Assessore Marco Scaiola, fra i piani dell'occupazione di Regione Liguria si guarda anche al mare, all'economia del mare, al turismo, è così? Assolutamente, parte il piano dell'economia del mare e del turismo, 49 corsi di formazione, oltre 5 milioni di euro l'investimento di Regione Liguria attraverso il Fondo Sociale Europeo. Contiamo di formare in Liguria circa 600 persone, i corsi sono corsi da un minimo di 150 ore a un massimo di 800 ore, sono corsi che si dividono tra l'attività in aula e quella anche sul campo e sono corsi che vogliono ridurre il famoso mismatch, quello tra richiesta e possibilità e opportunità di lavoro. C'è bisogno di lavoro in Liguria, c'è bisogno di figure tecniche, di figure professionali nell'ambito del turismo, ma anche nella cantieristica, nella logistica. C'è bisogno tanto, anche qui da noi in provincia d'Imperia, anche per la crescita del turismo, per la crescita dei nostri cantieri e non solo. E con questo noi contiamo di formare appunto 600 persone in Liguria, ma soprattutto non c'è un limite di età. Ovvero, non è solo per i giovani, che giustamente hanno un loro diritto di trovare degli spazi di inserimento, ma la formazione va anche a quelle persone, magari non più giovanissime, che però magari hanno perso il lavoro oppure devono rilanciarsi e quindi noi le riformiamo per inserirle nel mondo del lavoro. Quindi è un progetto ambizioso, importante, che siamo certi, anche grazie alla collaborazione delle camere di commercio, degli organi di categoria, di poter fare un ottimo lavoro. Grazie.